Non c'è mai stata alcuna criticità sulle capacità di far fronti ai ricoveri dell'ospedale di Biceglie che per la provincia Bat è dedicato a far fronti all'emergenza coronavirus. Lo afferma il direttore generale dell'ASLBT Alessandro Deledonne che spiega come il nosocomio bicegliese sia in grado di accogliere tutti i contagiati che necessitano di ricovero provenienti dal territorio provinciale e oltre. Infatti la metà dei pazienti covid-19 che hanno usufruito dell'ospedale Vittorio Emanuele II vengono da città al di fuori della provincia Bat. Delle donne non esita a definire procuratori di allarmi coloro che hanno fatto dichiarazioni che affermavano che fossero esauriti i posti letto nell'ospedale covid-19 della ASLBT. Si è polemizzato sulla base di una informazione evidentemente parziale perché allo Stato tutti coloro che hanno chiesto un ricovero all'interno dell'ospedale di Biceglie che è stato dedicato al covid per intero e quindi conta allo Stato oltre 74 posti letto attivi che stiamo implementando fino a 96 oltre i 18 posti letto di terapia intensiva già attivi ai quali si aggiungeranno altri 10 perché stiamo concludendo proprio in queste ore i lavori di ristrutturazione nel nuovo pronto soccorso per installare la pressione negativa, l'impianto di pressione negativa più tutte le tecnologie e gli strumenti per poter ampliare da 18 a 28 le terapie intensive. Allo Stato noi non abbiamo un tasso di occupazione pari al 100% dei posti letto effettivamente disponibili quindi tutti coloro che noi abbiamo dovuto dimettere o l'abbiamo potuto fare proprio in relazione al numero disponibile quindi queste notizie queste informazioni che sono si sono diffuse che hanno lasciato un pochettino il tempo che trovavano perché salvo poi il procurato allarme che rischiava un po di in generale nella popolazione. In realtà voglio rassicurare tutti coloro che hanno letto quelle notizie che in realtà l'ospedale di Biceglie sta rispondendo benissimo a quelle che sono le istanze non soltanto provenienti dal nostro territorio voglio ricordare e forse non si sa che l'ospedale di Biceglie ospita per la metà dei pazienti tutti extra ASLBAT.